Quattro bande insieme per tre concerti e Valentino si torna ad ascoltare buona musica grazie ad un nuovo progetto. Quando è stato ideato? Concerto Band for One, la banda Si Fa in Quattro, è un progetto nato intorno al mese di ottobre o novembre per opera dei maestri di quattro bande, tra cui la nostra banda Di Fano ed anche i presidenti delle bande, in occasione di Pesaro, capitale della cultura 2024. E che cosa avete studiato, progettato insieme? Abbiamo studiato di aggregarsi insieme perché la musica aggrega e siccome riteniamo che le bande musicali sia un'espressione sì di tradizione locale, di socialità, di volontariato, ma anche e soprattutto espressione di cultura. Infatti molti giovani ripongono speranze nella musica anche per un lavoro futuro. Molti bandisti sono in serbatoio di orchestre, musicisti che tuttora sono in auge sono passati per la banda cittadina, quindi la musica bandistica fa parte della cultura. Saranno tre le iniziative, la prima sabato 22 giugno. Il primo concerto dei tre che si svolgeranno Fano, Urbino e Pesaro. Vi aspettiamo sabato 22 giugno ore 21 e 15 presso la Rocca Malatestiana. Dirigerà il maestro Daniele Rossi. L'ingresso è libero, i posti sono a sedere, liberi, quindi vi aspettiamo numerosi perché vedere suonare più di 100 bandisti insieme è una bella cosa, è una bella realtà. Io ringrazio tutti gli inserzionisti che ci hanno sostenuto e ringrazio soprattutto Fano TV che ci dà la possibilità sempre di poter esprimere i nostri eventi. Gli altri due concerti poi quando si terranno? Sabato 6 luglio ore 18 a Urbino, Fortezza Albornoz. Martedì 16 luglio ore 21 e 15, Piazza del Popolo a Pesaro.